Tira No, è questo così Si, sto filmando la carta genica Appoggiamoci Ci appoggiamo, dai che fa meglio Si, vai Ecco qua è importantissimo Io te lo tengo Quindi lavora con due mani Tranquillo fra Te lo tengo io Ma era qua la prima Esatto Nel primo foro No E qui, bravo Ok 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 Guarda questi qui Aspetta che mi giro Così Ok 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 Ok